Eccomi, 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 buonasera amici e amiche rossoneri e vai ragazzuoli e ragazzuole belle, buona serata di questo martedì 14 novembre 2023, ore 18.58, presto che è tardi, lo faccio rivedere, sveglia, svegliatevi ragazzi, è tutto bello fresco, ve lo faccio rivedere un'altra volta, basta, finito qua. Allora ragazzuoli e ragazzuole, come dico sempre io amichevolmente, affettuosamente nei vostri confronti. La situazione per il nostro Milan è drammatica, soprattutto vedendo che chi è in difficoltà fa il cambio dell'allenatore in panchina, come l'ho detto ieri Real Madrid, cambio del vertice dei preparatori a 13, dottore e tutto quanto, lo ripeto, all'interno del Real Madrid, insomma noi praticamente stiamo qua a guardare Furlani di ritorno da Dubai praticamente, chiedi a Pioli, ma mister, ma come mai? Ma la preparazione atletica di quest'estate, come è andata? Come sono andate le cose? Cioè, allora io dico anche a Furlani una cosa, ma dottor Furlani, Giorgio Furlani, adesso ti do del tuo perché ti do del tuo, ma cosa ti aspetti come risposta da mister Pioli? Che ti dica, no guarda Giorgio è stato un po' un disastro la preparazione atletica, no i nostri dottori non sono tanti bravi, no ma guarda che sono infortuni che succedono, si gioca troppo ogni tre giorni, questi si spaccano, sono un po' sfigati i nostri giocatori, basta, ma noi non ci abbiamo colpa, ma Giorgio Furlani, ma amministratore delegato del Milan, ma cosa pensi di trovare come risposta da Pioli una roba che lui ammette le sue colpe? Ragazzi così non va bene, così non va bene, una società forte è una società che ti dice senti, hai rotto le scatole, adesso vai, vai, camminare, non abbiamo alternative, lo ripeto per la centesima volta, Abate allena sia la primavera che la prima squadra, Ibra come dice, lo si dice Abate fino a fine stagione e poi te ne restai ancora in panchina in primavera, mi raccomando, e poi sarà il tuo turno, anche se poi c'è da dire che uno che prova la prima squadra forse difficilmente, però così deve essere, punto e a capo, allora ragazzola avete visto i protagonisti della copertina, sono Oliver Giroux e Akor Adams e adesso ve ne parlo subito, prima di tutto voglio parlarvi di un giocatore che stiamo cercando per la difesa, ma vi svelo una nuova parte dei miei video che voglio fare, cioè quella di leggere i migliori messaggi che voi mi scrivete, io questo qui l'ho stampato, l'ho scaricato dal mio telefono alle ore 17 e 49, l'interessato oggi, il vincitore del messaggio che ha attirato molto la mia attenzione, che ve ne voglio parlare brevemente in video, è questo ragazzo, questo uomo, che è DanzoOnline4479, DanzoOnline4479 è il suo nickname, è il suo indirizzo di posta elettronica Gmail, che praticamente lui ha dovuto utilizzare per avere il suo account YouTube, come tutti voi, c'è chi di voi ha il nome e cognome, c'è chi ha inventato praticamente un nick di posta, ecco vedete, e lui ha scritto un messaggio molto interessante che adesso ve lo voglio leggere, per cui voglio aprire questa nuova rubrica all'interno dei miei video, anche se sono video che rimarranno entro un certo tempo, che non ne parlerò diciamo molto lungamente, il messaggio tra di voi che mi attira di più l'attenzione lo leggerò, perché è giusto che sia così. Niente ragazzi, allora siamo su questo difensore di proprietà del Genoa, il ragazzo ha 21 anni, è alto metro e 90, è un piede destro, è Alessandro Marcandalli, che in questo momento è praticamente in prestito alla reggiana di Nesta. Allora ragazzi, io non voglio smontare i fasci di entusiasmi, osservate questo giocatore che giocatore è, Alessandro Marcandalli è un grandissimo giocatore con una grande prospettiva futura di essere un grande difensore centrale. Lui può stare sia a sinistra che a destra come difensore centrale, però c'è un problema, ragazzi c'è un problema, sembra che il Genoa non è che ce lo voglia dare con molta felicità, ecco qual è il problema, questo è il vero problema, però Alessandro Marcandalli segnatevelo e andatelo a vedere. Allora adesso parto con Giroud, molti di voi lo sanno, ve lo spiego in breve, praticamente Oliver Giroud si è beccato da giudice sportivo, praticamente una squalifica di due giornate, Oliver Giroud salterà la Fiorentina e il Frosinone, la commisurazione di questa pena è dovuta dalle frasi, dalle espressioni ingiuriose all'arbitro e praticamente fermato fino al 4 dicembre, udite udite anche il presidente del Lecce, l'avvocato Sticchi Damiani, per il comportamento assunto a fine gara negli spogliatoi, per cui Giroud ritorna contro l'Atalanta e niente ragazzi, io ve lo dico sinceramente, ci potrebbe andare anche molto peggio, punto e a capo, dai su, facciamoci la verità. E adesso vi parlo dell'altro giocatore che avete visto in copertina di origine africane, Akor Adams, io l'ho visionato ieri per la prima volta, molto bene, molto bene, vi dico la verità, a mio modo di vedere, non dico che è più forte, ma secondo me, sto parlando, sto paragonando a David del Lille. David è sicuramente un ottimo giocatore che però adesso è un po' involuto nel Lille, cioè praticamente non sta facendo molto bene. Akor Adams invece, il 23N, alto anche lui, 1,90m come Marcandalli, Alessandro Marcandalli, praticamente con il suo Montpellier sta facendo furore. E andatevelo a vedere, Akor Adams, Akor con la K, Adams, che giocatore è? Ragazzi, questo giocatore dobbiamo prenderlo per forza, lo avete letto nel titolo, è obbligatorio che a gennaio noi portiamo a casa l'attaccante, la punta centrale, perché non è stato fatto quest'estate, probabilmente per motivi di bilancio e tutto il resto, perché noi siamo molto attenti ad avere un bilancio, siamo i più ricchi d'Italia, questo è vero, tutto il resto, però bisogna anche un po' azzardare e praticamente entrando nell'anno nuovo possiamo anche azzardare l'acquisto di Akor Adams, per me David non viene a gennaio neanche a pregare in qualsiasi lingua del mondo, Akor Adams, andatelo a vedere, con la K, Akor Adams, eccezionale, veramente un gran giocatore questo qua. E adesso arrivo praticamente al messaggio scritto da questo caro amico, o amica, ma io, no, Danzo, per cui Danzo dovrebbe essere uomo, praticamente che mi ha scritto nel mio video di ieri, nel video che ho fatto ieri, ovviamente i messaggi che voi mi scrivete li posso leggere il giorno dopo. Allora, prima di tutto ringrazio a tutti voi che mi scrivete parole d'affetto, grazie per dire queste cose che dice Alex, io la penso come te, io ragazzi, io leggo tutti i vostri messaggi, non rispondo più per un semplice fatto che a volte proprio non ho il tempo materiale di doverlo fare, ho voglia di rilassarmi anch'io la sera dopo una giornata impegnativa, metto un cuoricino a quelli che mi stuzzicano di più e poi adesso voglio aprire questa rubrica di leggere quel messaggio, quei messaggi che attivano la mia attenzione. E questo Danzo Online praticamente dice una cosa giusta, ragazzi, dice una cosa molto giusta, adesso ve lo leggo, faccio rivedere, eccolo qua. Allora, lui scrive questo, non si parla mai di Milan Lab e Tognacini che condizionano tutto l'apparato fisico e atletico del Milan. Anche con Allegri era successa la stessa cosa, infortuni. Solo Sedorf ebbe il coraggio di sbarazzarsi dello staff e scegliere un solo preparatore ai suoi ordini. Il risultato fu che nel girone di ritorno il Milan non ebbe un infortunato e ci fu una crescita generale della squadra. Ma questa storia nessuno la ricorda. Danzo Online ha perfettamente ragione. Clarence Sedorf, sono andato un po' a indagare nel passato online, Clarence Sedorf fece questa decisione e non ci fu più nessun problema fisico per il Milan. Poi fu un'altra storia che gli elementi in quel periodo sotto l'allenatore Clarence Sedorf non erano elementi che facevano urlare al abbiamo grandi giocatori, questo no. Però guai fisici non ce ne furono più. Ragazzi, vedete, alcuni di voi a volte danno degli spunti che né i giornalisti, ma neanche sottoscritto, ve lo dico tranquillamente, possono avere perché magari non ce li ricordiamo. E qualcuno di voi ha questa memoria di ferro, oppure ha quel ricordo legato a quel momento che può aiutarci a capire. Per cui, lo ripeto a quelli che sono milanisti scettici, oppure giornalisti che guardano i miei video, oppure dipendenti del Milan che guardano i miei video, perché so che qualcuno li vede, vedete cosa ha scritto Danzo Online? Solo Sedorf ebbe il coraggio di sbarazzarsi dello staff e scegliere un preparatore ai suoi ordini. Il risultato fu che nel girone di ritorno il Milan non ebbe un infortunato. Non aggiungo altro, ragazzi, perché penso che Danzo ci ha dato proprio uno spunto, ci ha ricordato un fatto che... Dai, forza e coraggio a scrivere commenti giusti che il vincitore verrà menzionato e lo leggerò. Però io ti ringrazio, Danzo, anzi, penso di farlo a nome di tutta la mia comunità. Ti ringraziamo di averci dato questo ricordo importante e per farmi capire che la mia battaglia non è una battaglia inutile, la mia è una battaglia giustissima. Pioli via e il suo staff via e menare. Forza Mina, sempre, comunque, ovunque. Ciao!